Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. 100 dipendenti, con tecnici altamente qualificati. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità, sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oio e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. Balzano Consulting Group. Seguiamo i tuoi lavori di ristrutturazione dall'inizio alla fine. Pensiamo a tutto noi. Siamo esperti nella redazione della relazione tecnica integrata in caso di compravendita. E ricorda, il super bonus del 110% è valido fino al 2025 per questi comuni. Fidati anche tu dello studio Geometra Balzano Consulting Group. Passione e competenza in campo, ogni giorno. Noi di RB Plast abbiamo tutto quello che ti serve. Da sempre siamo rivenditori di tapparelle ed infissi in diversi materiali come PVC, alluminio e legno alluminio. Porte da interno della ditta Ferrero Legno. Porte blindate, grate di sicurezza, zanzariere e persiane. Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti. E approfitta delle nostre condizioni vantaggiose nello showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro. Amici e amici di Rossini TV, bentornati al nostro appuntamento del martedì sera, amministrando verso le elezioni 2024 una serie di confronti per capire qual è l'aria che tira dal punto di vista politico nella nostra provincia. Poi nel 2024 cominceranno i confronti veri e propri fra i candidati. Questa sera abbiamo ospiti in stretto ordine alfabetico Luca Pandolfi alla mia destra. Buonasera. Michele Redaelli alla mia sinistra. Buonasera. Luca Pandolfi, assessore alla solidarietà con deleghe ai servizi sociali, alla famiglia, agli anziani e al volontariato. Michele Redaelli, consigliere comunale di centrodestra, gruppo misto di minoranza. Cominciamo con le nostre domande e partiamo, come abbiamo detto in ordine alfabetico, con Luca Pandolfi e parliamo immediatamente di politiche sociali. È il suo pezzo forte, il suo ramo principale di lavoro come assessore. La domanda che mi sento di fare in generale, la situazione a Pesaro per quello che riguarda i servizi sociali, lo sappiamo, è abbastanza positiva. Ma capita delle volte che ci possano essere delle polemiche o comunque dei dubbi riguardo a poi come la regione effettivamente recepisce l'impegno della città di Pesaro da questo punto di vista. Qual è la tua opinione, Luca? Allora, noi come città e servizi siamo estremamente impegnati a dare servizi e risposte ai cittadini pesaresi. Voglio ricordare anche che sono presidente dell'ambito sociale e territoriale, e quindi abbiamo anche un respiro e delle azioni che vanno al di là del comune di Pesaro. Siamo sempre impegnati a dare il meglio delle risposte in una situazione generale che è fortemente cambiata nell'ultimo anno, fondamentalmente per scelte del governo che hanno inciso poi sulle comunità locali. Penso al fatto che di qui a un mese scomparirà il reddito di cittadinanza e altri invece interventi che secondo noi sono sempre stati molto importanti. Io appena mi sono insediato come assessore, l'emergenza che mi hanno evidenziato era quella della casa. Noi dobbiamo ricordare che il governo ha tolto il contributo del fondo affitto e l'amorosità incolpevole che sul nostro territorio dava più di 500 mila euro a mille cittadini pesaresi. È un contributo che è venuto a mancare e che noi con il fondo anticrisi abbiamo quest'anno sostituito con risorse comunali, 250 mila euro, una misura che abbiamo condiviso anche con i sindacati per andare a incidere là dove c'è bisogno. Quindi ci troviamo in una situazione nella quale il nostro territorio è strutturato per dare il meglio delle risposte anche perché c'è una lunga tradizione di rapporti con il terzo settore sociale, dalla povertà alla disabilità. Costruiamo, coprogettiamo, coprogrammiamo i servizi insieme. Penso all'Osservatorio Povertà che è un progetto appena nato da un anno con Caritas all'Università di Urbino e però ci troviamo in una situazione in cui ci sono dei cambiamenti, una riduzione di risorse e quindi siamo molto attenzionati su questi temi. Michele Redaelli, dal tuo punto di vista, come vedi la situazione di Pesaro dal punto di vista sociale? Ti ribadisco anche la domanda. La regione, secondo te, potrebbe fare di più proprio per sopperire a quelle che sono le problematiche derivate dalle scelte del governo? Ma quando parliamo di questi servizi innanzitutto mi piace affrontare da un punto di vista personale, è un mondo del quale mi sento parte, è un mondo che frequento. La cosa che mi piace di più dell'esperienza da consigliere comunale è proprio quella di andare a incontrare queste realtà perché io ritengo che le realtà del mondo del sociale a Pesaro siano forse il vero patrimonio della nostra città, della nostra società e nel dialogo, nel contatto con loro c'è la possibilità di conoscere veramente i temi concreti, quotidiani della città e c'è la possibilità insieme di mettere in campo quelle che sono le risposte ai bisogni, ai bisogni concreti delle persone. Io credo che ogni ente debba fare la sua parte per quanto gli compete. il Comune fa la sua parte, la Regione fa la sua, così come il Governo nazionale. Quello che è fondamentale è un patto istituzionale per cui insieme si possa, ciascuno nei propri settori e ciascuno per le proprie competenze, affrontare le tematiche concrete. Tante sono le realtà di Pesaro, è un vero patrimonio e è il motivo per cui ho anche provato a portare una mozione in Consiglio Comunale che riguarda proprio il mondo della solidarietà anche proprio all'interno di Capitale della Cultura chiedendo di poter raccontare l'identità culturale della solidarietà di Pesaro perché se noi pensiamo a Pesaro e alla propria identità culturale io penso che una colonna fondante sia proprio quella della solidarietà. C'è un tessuto di tantissime realtà tantissime iniziative personali legate anche a grandi uomini e grandi donne che hanno fatto la storia della nostra società e forse Pesaro anche all'interno di Capitale della Cultura può cogliere l'occasione di raccontare quello che è secondo me il suo vero potenziale. Le amministrazioni devono essere secondo me al servizio di queste realtà. Tante volte si vede nei grafici delle amministrazioni le freccette che dallo Stato scendono alle regioni e poi scendono alle associazioni. Secondo me le frecce devono essere all'incontrario perché la vera energia è quella delle persone che si impegnano dal basso e l'amministrazione deve mettersi al servizio in identificare le realtà virtuose e sostenerle nel loro lavoro. Posso, se mi permetti, racquillizzare le daelli? Noi abbiamo una cultura storica che deriva però da una posizione politica dell'amministrazione comunale negli anni che è quella dell'amministrazione condivisa con il terzo settore e quindi con un rapporto che oggi la legge vuole ci spinge per avere questo nuovo rapporto con il terzo settore e col volontariato ma noi lo abbiamo come tradizione storica nel nostro territorio. Questo va detto perché politicamente è un messaggio molto forte e noi lo stiamo portando avanti perché neanche tre settimane fa ho iniziato con un'assemblea pubblica aperta tutto il volontariato e tutto il terzo settore un percorso di amministrazione condiviso di tutto l'ambito sociale e territoriale che vuole mettere a febbraio nero su bianco quello che è il nostro modello di welfare un modello in cui ci si siede ai tavoli come per l'autismo abbiamo oggi gestiamo 580 mila euro su tutta la provincia dove ci siamo seduti a un tavolo con 80 soggetti della sanità associazioni di genitori e terzo settore che insieme decidono come progettare e come meglio progettare il sociale sul territorio. Sei tranquillizzato da quello che ha detto Luca Pandolfi? Va bene così non particolarmente ma va bene così Michele hai affrontato un tema importante che è quello della cultura Pesaro 2024 capitale della cultura sarà un anno importantissimo per la nostra città la cultura storicamente delle volte non è che coincida sempre con quella che è la tradizione forse della destra in Italia c'è difficoltà adesso stanno cambiando le cose si stanno aprendo anche in questo campo delle nuove visioni secondo te è vero questo? Come Pesaro sta sfruttando anche questa occasione di capitale della cultura 2024? Beh innanzitutto la cultura è trasversale e supera le barriere di appartenenza politica e meno male il tema di capitale della cultura innanzitutto faccio una premessa è una grande opportunità per la città di Pesaro e per tutto il territorio la vera domanda che cerchiamo di porre continuamente ogni volta che si parla di capitale della cultura per cercare di essere la stimolo come centro-destra e come opposizione a Pesaro e cercando di essere propositivi è una cioè cosa resterà il primo gennaio del 2025 dell'operazione Pesaro capitale della cultura? Perché è fondamentale che non sia solo un elenco di eventi ma che ci sia una ricaduta sul territorio che diventi stabile che diventi un punto di crescita e di non ritorno per la città di Pesaro altrimenti avremo sprecato un'occasione ecco noi cerchiamo quotidianamente di mettere a disposizione anche il nostro contributo per fare in modo che a Pesaro rimanga qualcosa di questa operazione abbiamo sempre identificato anche quelli che secondo noi sono stati degli errori portati avanti da questa amministrazione il primo riguarda la governance perché affidare tutto alla fondazione pescheria secondo noi è stato un errore per diversi motivi il primo è perché sostanzialmente le somme in denaro vengono erogate alla fondazione e il comune perde completamente ogni controllo rispetto a questa iniziativa e la fondazione opera in modo indipendente ma al di là di questo aspetto che pur è importante c'è un altro aspetto nella maggior parte delle altre realtà che sono diventate capitale della cultura erano due i contenitori a fianco a quello che per noi è la fondazione c'era anche una fondazione aperta un comitato aperto e questo permetteva anche la possibilità di un maggior coinvolgimento della città stessa da parte di privati, di investitori e di varie realtà che potendo entrare in modo significativo all'interno di un contenitore a loro dedicato hanno anche potuto essere protagonisti di questa cosa e fare in modo che ci fosse un effetto moltiplicatore di energie ecco la scelta di andare in un'unica direzione e non avere anche quest'altro contenitore sicuramente sta in qualche modo penalizzando la situazione e se ne sta rendendo conto anche l'amministrazione che di fatto si accorge che forse i fondi non sono poi così tanti a disposizione di questa iniziativa ma la vera carenza ad oggi è una cioè noi ci troviamo davanti a una grande operazione ad oggi di marketing nel senso che sono stati identificati degli eventi una carrellata di eventi ma manca ad oggi l'operazione culturale cioè qual è l'identità qual è il racconto che si vuole fare nel 2025 l'Italia, il mondo a cui ci rivolgiamo con Pesaro Capitale della Cultura cosa avrà capito di Pesaro? cosa stiamo raccontando di Pesaro? io per esempio ho proposto questo aspetto di identificarla con Pesaro Capitale della Cultura e della Cultura della Solidarietà ma sotto cosa c'è oltre alla carrellata di eventi? Luca Pandolfi, c'è qualcosa di importante sotto rispetto a quello che dice Luca Redaelli soprattutto per quello che riguarda il tema della solidarietà del coinvolgimento anche dell'assetto sociale dell'intera città? Sì, intanto lasciami dire una cosa perché è importante vedere tutto il percorso e investimento dell'amministrazione negli ultimi dieci anni sulla cultura noi siamo diventato capitale unesco della musica dopo un grandissimo lavoro che ha fatto l'amministrazione Ricci e abbiamo portato a casa il Museo Rossini anche lì grazie a un intenso lavoro dell'amministrazione comunale rivolto a uno di quelli che erano gli obiettivi del nostro mandato che è quello culturale e siamo riusciti a vincere a diventare la capitale della cultura e adesso siamo proprio entrati in questo evento grazie a un grandissimo lavoro che innanzitutto è stato un lavoro non solo di qualità, di scelta, di idee ma anche di condivisione e quindi anche lì tranquillizzo Redaelli noi svolgeremo, svilupperemo la capitale in tutti i comuni della provincia che presenteranno progetti e eventi legati alle loro caratteristiche culturali su tutto il territorio quindi c'è massima condivisione del comune di Pesaro e abbiamo fatto anche un lavoro anche sul terzo settore e tutto il mondo, anche sociale, territoriale non c'è stato un evento perché forse oggi alla politica piacciono gli eventi chiamare il sociale e dire allora cosa facciamo insieme in realtà, che è una cosa che poi segue personalmente tutto il mondo del welfare che ha voluto presentare le proposte e sta presentando le proposte oggi lo sta facendo e sta ancora programmando perché c'è stata l'ufficializzazione ma ancora stiamo lavorando per tutto il 2024 quindi c'è un'apertura al racconto di quello che riteniamo noi per primi un valore della città che è quello del welfare da inserire in un contesto che è quello della capitale della cultura dove parleremo di ambiente parleremo di sociale e parleremo di cultura tutto insieme perché sono i tre punti che sono anche i punti del nostro programma di mandato allora siamo peraltro al 2024 quindi ci saranno le elezioni a giugno e come si convinceranno i pesaresi bisognerà continuare sulla strada che fino adesso è stata conosciuta quindi quella di un'amministrazione tendenzialmente di sinistra come storicamente nella nostra città oppure per quale motivo i pesaresi appunto dovrebbero continuare ad andare in questa direzione Luca Pandolfi qual è il motivo vero per cui secondo te questa amministrazione avrebbe motivo di continuare? Tu sai che sono diventato assessore da due anni quindi da poco e sono entrato e ho visto un contesto di ero già in maggioranza ma da assessore ancora di più un'attenzione a un progetto di Pesaro futura quindi c'è un'attenzione a quello che sarà la Pesaro del futuro sappiamo tutti che in questi anni Pesaro è stata conosciuta da tutti gli italiani non si deve più dire che è vivo vicino a Rimini o citare forse Urbino per chi ha conoscenze culturali del rinascimento oggi Pesaro è conosciuta è una città vivace e si è investito sappiamo i milioni di euro di investimenti che abbiamo di lavori che andranno anche completati ultimati una città moderna una città ancora più green una città ancora più tecnologica perché stiamo investendo anche su quello e quindi guardare a un futuro però sempre tenendo conto da dove veniamo quindi e questo l'amministrazione l'ha sempre avuta questo mantenere il rapporto con le proprie radici allora le radici sono quelle di servizi educativi e investimento sul sociale sull'educazione sulla cultura questo rapporto con il mondo del volontariato del terzo settore che è ricchissimo sul nostro territorio e dobbiamo ricordarci che sono modelli che non è detto che continuino sono modelli che sono nostri che abbiamo portato avanti e li porteremo avanti anche nel futuro della città considerate una cosa poi ha detto una cosa giusta Luca Pandolfi Pesaro non è più la città vicino a Rimini ve lo possiamo dire anche col nome della nostra emittente perché quando noi ci presentiamo per intervistare delle persone diciamo Rossini TV immediatamente dicono sì Rossini TV siamo vi conosciamo anche se non ci hanno mai visto prima in vita loro perché il nome di Rossini è così importante ed evocativo Michele Redaelli invece secondo te se dovessimo pensare a un futuro dal 2024 in poi senza sinistra al governo della città come la vedresti te questa nuova situazione? sì io vedrei bene la sinistra fare l'opposizione per un po' di tempo con un governo di centrodestra ma io penso che questa città abbia delle grandi risorse e non bisogna cancellare nulla di quello che funziona però ci sono tante cose che vanno migliorate quello che non ci soddisfa innanzitutto è la gestione ordinaria della città di quello che è il tema delle manutenzioni di quello che è il tema degli investimenti sulle cose semplici perché ci sono grossi temi che non sono affrontati ecco credo che a questa amministrazione manchi l'energia di guardare i problemi veri che ci sono dal nostro punto di vista come posizione cerchiamo di guardarli cerchiamo di essere propositivi nel trovare delle soluzioni da mettere a disposizione quindi ci caratterizza innanzitutto la volontà di guardare questi temi e di non volerli nascondere e di volerli affrontare tante volte vediamo in questa amministrazione una certa stanchezza e una certa necessità di dire o va tutto bene oppure è colpa della regione ecco penso che all'interno di queste due diciamo così scusanti ci possa essere il fatto di voler affrontare i temi e noi in questo caso lo vogliamo assolutamente fare sul tema delle manutenzioni si possono fare una serie di esempi infiniti si potrebbe andare in qualunque quartiere e nessun cittadino ti potrebbe raccontare di essere soddisfatto della situazione che trova ma così come nel tema dei servizi un solo esempio 200 famiglie esclusa al servizio nidi e anche in questo caso la posizione del comune è stata quella di dire è colpa della regione oppure sul tema dei piccoli interventi di manutenzione o di piccoli investimenti per i servizi mi sono occupato tante volte del tema degli sgambatoi che è un tema che riguarda tante persone tante famiglie due anni fa presentai un protocollo in cui indicavo quelle che erano le priorità e i temi intanto di manutenzione e poi dei piccoli servizi come l'acqua la luce eccetera in due anni non è stato fatto nulla se non fare uno sgambatoio doppione vicino alla stazione a un metro lineare da quello esistente quindi ci preoccupa il tema del fatto che sulle piccole cose sulle cose semplici che però ai cittadini importano perché sono quelle concrete che si incontrano tutti i giorni questa amministrazione non sta dando quello che la città ha bisogno ecco posso volevo infatti sentire no no la cosa va detto in realtà Michele ha detto una cosa che non cambieranno i servizi in realtà è automatico che molte cose verranno annullate perché questa è la tradizione della politica oggi come al governo il welfare è stato annullato tutto lo stato sociale i servizi del reddito e cittadinanza che era del governo precedente a livello locale sappiamo che il centro per autismo regionale oggi è sparito ed ha una location che dovremmo capire quale sarà ed era un progetto che doveva partire l'ospedale che era arrivato alla fine anche quello è stato annullato e attendiamo di capire dopo le rassicurazioni che il governo regionale fa a Pesolo per i pesaresi a Orbino per gli urbinati e forse a Fano per i fanisi quale sarà il futuro dell'ospedale quindi in realtà quando il centro-destra va al governo fa una specie di ripulisti di quello che era indipendentemente da se funzionava o meno di quello che era in servizio o progettualità precedenti quindi in realtà molto cambierà dovrebbe cambiare nel caso il centro-destra arrivasse al governo della città quindi questo bisogna tenerlo presente voglio un attimino anche citare il contributo che ha avuto Biancani quando è venuto da voi in precedenza abbiamo tantissimi investimenti decine di milioni di euro per nuovi progetti ma uno dei punti fondamentali e condivido con Michele anche con l'esperienza del presidente del quartiere è quello delle manutenzioni quindi lì andremo a investire sulle manutenzioni oltre alle nuove progettualità sulla città quindi manutenzione nuove progettualità investimenti sul sociale gli educativi ricordo che Pesaro segue il modello di centro-sinistra degli asili e nidi comunali che è un modello che ha un colore politico per cui le amministrazioni storicamente hanno deciso di investire anche nell'educazione e non è un modello che hanno tutti quindi noi lì ancora continuiamo a investire e lo investiremo anche il prossimo mandato allora se posso replico anch'io visto che mi ha replicato su ogni argomento più che altro se dovessi definire anche tu un tuo modello sì no innanzitutto rassicuro io questa volta l'assessore dicendogli che questa argomentazione è la classica argomentazione di sinistra per cui si cerca di stillare del terrore nei cittadini per cui se dovesse governare il centro-destra ci sarà una tragedia per cui tutto verrà distrutto tutto verrà annullato non è così lo dimostra il governo Meloni per esempio che sta andando avanti testa bassa lavorando in modo concreto e con la credibilità dei cittadini noi vogliamo cambiare certo per fare meglio non certo per distruggere come viene espresso dal centro-sinistra che ha forse la preoccupazione di terrorizzare l'elettorato rispetto ad eventuali cambiamenti che noi invece ci auguriamo sì una ricetta una ricetta l'abbiamo perché il tema che stiamo affrontando come centro-destra è quello di fare una proposta che parte da un campo di azione largo che è quello della nostra coalizione una coalizione storica che lavora insieme senza stranezze senza alchimie che invece caratterizzano l'amministrazione soprattutto comunale di centro-sinistra quindi una piattaforma di centro-destra stabile e il lavoro che vogliamo fare per questa città è una proposta che riguarda la città quindi insieme alla città vogliamo andare e lo stiamo facendo a incontrare tutte quelle realtà che hanno voglia di mettersi in gioco non per forza di cambiare o di voler fare chissà quale azione versiva di mettersi in gioco per liberare energie positive mettere in campo competenze mettere in campo tutto quello che è il know-how e tutto quello che è il patrimonio di questa città lo stiamo facendo senza stare sotto i riflettori senza l'ansia di dover andare a tagliare qualunque nastro si trovi nella città di Pesaro e lo stiamo facendo con la concretezza e con anche la soddisfazione di trovare tante persone che hanno voglia di mettersi in campo la ricetta c'è perché noi ci troviamo in una situazione di di tanti temi complicati da gestire e amministrare non è una passeggiata ed è una cosa che va fatta con con tanta responsabilità e con tanto studio anche ci troviamo davanti a dei temi importanti il primo innanzitutto che riguarda la vita di tutti i cittadini è il tema della sicurezza della qualità della vita e questo comprende delle coro le manutenzioni tutto quello che è il mondo dei servizi è un tema fondamentale a mio avviso che è quello delle fragilità fragilità di tanti tipi delle nuove povertà le fragilità abitative le fragilità delle accessibilità ai luoghi e ai servizi un tema che è quello del lavoro che non dobbiamo trascurare perché la situazione attuale non è positiva dal punto di vista delle opportunità di lavoro e il tema dei temi che secondo me è quello del futuro dei nostri figli dei nostri giovani ho un figlio di due anni io mi metto ogni giorno a pensare anche quello che posso lasciare in termini di positività e di sostenibilità cioè della durata delle azioni che possiamo mettere in campo ecco noi abbiamo due cose che ci caratterizzano la prima è la volontà di guardare questi argomenti e di affrontarli la seconda è una ricetta concreta che è quella di non costruire un percorso autoreferenziale dei partiti ma un percorso insieme alla città andando a lavorare con loro e andando a lavorare con tutte quelle realtà cittadine che ci stanno dando un grande contributo un grande sostegno e che siamo convinti ci porteranno anche a vincere le prossime amministrative sul candidato sindaco tanto poi me lo chiederai sarà la persona che sarà in grado di interpretare al meglio questo percorso di coinvolgimento della città quindi non te lo chiedo più perché già hai detto che in pratica non sappiamo chi sarà il nome ancora non c'è Luca è stato un discorso molto deciso quello di Michele Redaelli cosa ti senti di dire al riguardo? no beh ha descritto di fatto il modello dell'amministrazione condivisa che è quella di condividere col territorio i percorsi che è quello che noi ereditiamo come amministrazione da chi ha gestito la città fino adesso e le sfide sono tante e bisogna mettere risorse e bisogna cercare di non avere rispetto dei cittadini e non raccontare storie che non esistono io faccio solo un esempio sulla povertà abbiamo c'è stata una grande pubblicità della carta sociale con la quale i cittadini dovevano andare a fare la spesa ed è un'operazione messa in campo dal governo per intercettare quella che è la zona grigia della povertà a noi noi eravamo solo diciamo il comune doveva solo fare una verifica anagrafica sono arrivati 4.000 nominativi di persone aventi diritto secondo lo standard del governo alla fine le risorse arrivate hanno coperto solo 1.400 persone quindi sono arrivate solo 1.400 tessere delle 4.000 4.000 cittadini pesarese che avevano diritto a quell'operazione è stata pubblicizzata per mesi però dal punto di vista concreto della risposta ai cittadini non è arrivata esattamente come i 500 e passa 1.000 euro del fondo affitto quindi è importante oggi non andare a raccontare slogan ai cittadini ma dare risposte concrete e questa è la nostra concretezza che in primis sul nostro territorio locale mettiamo in atto a breve ripartirà il fondo anticrisi condiviso con i corpi intermedi sindacati dove individueremo quelle che sono le azioni e le risorse da mettere in quello specifico intervento a sostegno dei pesaresi per concretamente dare delle risposte quindi noi siamo qui dobbiamo dare delle risposte concrete ecco c'è un'inquietudine dovuta all'incertezza di non sapere bene quello che sarà il 2024 a tornare in ragione del fatto che alcune azioni a sostegno della fragilità sono venute a mancare dico solo questo all'inizio dell'anno c'erano 4000 persone nel reddito di cittadinanza dove io come ambito sociale e territoriale gestivo tutta la parte sociale perché c'è il reddito di cittadinanza sociale e oggi sono 1600 e quando partirà il reddito di inclusione quindi ci sono delle sfide che dovremmo affrontare noi ci siamo e le affronteremo con la serietà che ci caratterizza affronterete con la serietà che vi caratterizza anche la scelta del nome anche lì in questi giorni ci sono delle consultazioni per chiedere diciamo all'elettore PD l'iscritto quella che è la preferenza fra diciamo i due candidati oggi indicati è un percorso credo che sia importante partecipato e poi all'inizio dell'anno ci sarà l'indicazione del sindaco dove un po' mi conosci nell'era dei leader i leader sono importanti la figura del sindaco sarà molto importante però è la squadra che conta e il nostro territorio può vantare una squadra che va dai consigli di quartiere ai volontari che lavorano alacremente sia adesso nella capitale della cultura che nei vari eventi della città e i consigli comunali che fanno un lavoro incredibile nelle commissioni e non sono adeguatamente considerati per quello che fanno e poi arrivare alla giunta che lavorerà insieme con tutte le forze del campo largo che oggi sostengono la giunta Ricci per costruire il futuro della città guardando a quello che di buono abbiamo fatto per chiudere con Michele Redaelli i nomi dei due possibili candidati sindaci per il centro-sinistra sono Andrea Biancani e Daniele Vimini ma non è che state aspettando di sapere chi sarà il candidato per tirare fuori poi il nome del centro-destra o della destra come preferisci innanzitutto se la notizia è che ma che è una notizia confermata perché l'ha detta lo stesso sindaco che non è più il candidato sindaco Daniele Vimini perché Daniele Vimini è il candidato di continuità è la continuità di questa amministrazione dieci anni da vice sindaco e l'unico assessore inamovibile l'unico assessore a cui non sono mai state cambiate le deliche l'unico perno fisso di questa amministrazione quindi il candidato naturale di questo centro-sinistra beh la notizia è data al sindaco dicendo che il percorso Daniele Vimini non è più il percorso di questa amministrazione dovendo andare a chiamare in causa Andrea Biancani quindi sostanzialmente bocciando quello che è il suo percorso di questi dieci anni da questo punto di vista noi non temiamo né l'uno né l'altro noi sappiamo che la nostra forza sarà nel lavoro di squadra che riusciremo a fare con la città per cui non ci preoccupa né l'uno né l'altro sappiamo che il nostro percorso deve essere quello di costruire una proposta credibile seria perché i bisogni di questa città sono tanti e soprattutto le potenzialità di questa città sono tanti e noi dobbiamo essere bravi a metterci al servizio di queste realtà grazie a Luca Pandolfi grazie a voi grazie a Michele Redaelli grazie appuntamento a martedì prossimo per l'ultima puntata di Amministrando verso il 2024 del 2023 buona serata a tutti Comis a Pesaro dal 1994 opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff 100 dipendenti con tecnici altamente qualificati tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzioni lavori di elevata professionalità sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oio e gas Comis progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas Balzano Consulting Group seguiamo i tuoi lavori di ristrutturazione dall'inizio alla fine pensiamo a tutto noi siamo esperti nella redazione della relazione tecnica integrata in caso di compravendita e ricorda il super bonus del 110% è valido fino al 2025 per questi comuni fidati anche tu dello studio geometra Balzano Consulting Group passione e competenza in campo ogni giorno noi di RB Plast abbiamo tutto quello che ti serve da sempre siamo rivenditori di tapparelle ed infissi in diversi materiali come PVC alluminio e legno alluminio porte da interno della ditta Ferrero Legno porte blindate grade di sicurezza zanzariere e persiane vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e approfitta delle nostre condizioni vantaggiose nello showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro